Entro 24 ore si conoscerà il futuro politico di Alghero. Scade domani infatti il termine che consente al sindaco Marco Tedde di ritirare le dimissioni da primo cittadino, scongiurando così l'arrivo al palazzo civico di un commissario targato Cagliari. Dopo l'ultimo weekend, pare sempre più probabile che Tedde continui ad avere la guida politica della città. Nonostante non tutto, sia ancora stato risolto in seno ai partiti che compongono la maggioranza del Consiglio cittadino, che si riunirà domani pomeriggio con una nuova seduta sul bilancio.